In questo capitolo affronteremo il Trecento, che è un secolo di grandi cambiamenti nella storia europea, che è quella di cui ci interessiamo noi in particolar modo. Come di consueto, prima di iniziare ad addentrarci nel capitolo, prendete il vostro libro e guardate le prime due pagine. Trovate, fate uno schema, pochi minuti il tempo di leggerlo, dei motivi della crisi del Trecento e di come questi motivi siano interdipendenti tra loro. Tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo l'Europa aveva visto un generale miglioramento dal punto di vista economico, sociale e culturale. Erano cambiate le culture, quindi c'erano più prodotti, la popolazione era aumentata come numero, si erano sviluppate le attività produttive, i commerci e si erano sviluppati anche i commerci con l'Oriente nel periodo delle crociate. Ma nel quattordicesimo secolo tutto ciò cambiò e si parla infatti della crisi del Trecento, che fu provocata da diversi fattori che poi iniziarono a influenzarsi uno con l'altro. Gli abitanti dell'Europa erano aumentati, ma a un certo punto si pensa che il fattore scatenante di tutta questa crisi fu il cambio climatico. Fino al Trecento il clima in Europa era generalmente buono, un po' come lo conosciamo oggi stando alle fonti, ma dal quattordicesimo secolo ci fu una diminuzione delle temperature, gli inverni diventarono più rigidi, le piogge aumentarono, il clima non era più adatto, non era più così favorevole alla coltivazione. Basti pensare che abbiamo fonti che ci documentano che il Tamigi, il fiume di Londra, d'inverno ghiacciava. E se voi guardate alcuni film particolarmente ben realizzati, vedete come i film ambientati in questi secoli mostrino sempre in inverno la neve dappertutto, perché in questo periodo effettivamente nevicava anche alle basse latitudini. Questa piccola glaciazione cambiò, iniziò a influire in maniera pesante sulla produzione alimentare, e quindi l'alimentazione per le fasce più povere della popolazione, che già non era un'alimentazione ricca, divenne insufficiente. Ci furono addirittura due picchi di carestie, cioè momenti in cui la produzione era troppo bassa per la popolazione, non si produceva sostanzialmente nulla, tra il 1314 e il 1316, e poi una ancora più estesa, tra il 1346 e il 1347. Le vittime di queste carestie furono tantissime, ma chi sopravvisse ebbe ulteriori problemi, perché si trovò a vivere in condizioni di malnutrizione, e questo lo rese più esposto alle malattie. Infatti il 300 fu anche un secolo in cui si diffusero le epidemie, che diventarono endemiche, cioè parte integrante della vita di tutti i giorni non si riuscivano a debellare definitivamente. Vedremo fra poco la peste del 300, la peste nera. Tutto ciò portò a una diminuzione della popolazione. La popolazione diminuì, abbandonò le terre perché non riusciva più fisicamente a coltivarle, e questo portò a un ulteriore declino economico. Quindi meno popolazione, meno terre da coltivare, ancora meno popolazione, e meno attività produttive perché per chi e per chi bisognerebbe produrre qualcosa se la popolazione sta diminuendo. Uno degli eventi più drammatici di tutto il 300 fu la famosa peste nera, cioè la diffusione della peste bubonica, chiamata peste nera o morte nera, perché si verificò, si vide che sui corpi degli infetti si presentavano delle macchie scure. Ora la peste partì in Cina, poi alla fine faremo un collegamento con la situazione attuale. Partì in Cina, per la prima volta i primi segnali siano nel 1347, si propagò appunto nell'Oriente Bizantino e Islamico, sino in Occidente, seguendo le rotte commerciali. Arrivò a toccare tutta l'Asia, l'India e giunse in Europa, portata appunto dai commerci, in particolare dai commercianti genovesi, che avevano basi in Asia, ma anche appunto grazie a queste basi appunto presero, non volendo, la malattia e la trasmisero. Dal 1347 al 1341 si calcola che in Europa morirono qualcosa come 24 milioni di persone e circa un terzo della popolazione europea, che abbiamo detto era stimata sui 75 milioni. La cosa tremenda della peste nera fu che non fu un fenomeno isolato, cioè ritornò ancora ciclicamente per un secolo e oltre ogni 10-15 anni, causando ogni volta milioni di morti. Mai all'altezza dell'esplosione iniziale, ma tornò sempre. Ad esempio in Italia si passò dagli 11 milioni di abitanti, persero la vita appunto su 11 milioni di abitanti circa 3 milioni. Questo portò a un calo demografico tremendo in tutta Europa. Ad esempio, un altro esempio appunto è la città di Firenze, che passò da 110 mila abitanti a 50 mila nel corso del Trecento. Ora, le conoscenze sulla peste erano veramente scarse per l'epoca. Nessuno sapeva che era un batterio che è presente nelle pulci del ratto nero di origine asiatica e che ne è un portatore sano e che quindi appunto non subisce effetti negativi da questo batterio, ma che però lo diffonde, lo può trasmettere agli esseri umani, che invece prendono la malattia con tutti i sintomi annessi e connessi. Il morbo si diffonde soprattutto a causa delle scarse condizioni igieniche, che nel 14esimo tra l'altro erano ovviamente pessime. Le città e le abitazioni erano infestate dai topi e quindi la malattia si diffondeva ancora più velocemente. Erano gli stessi topi a essere trasportati sulle navi e quindi ad arrivare in Europa e quindi permettere una diffusione del morbo ancora più veloce, riproducendosi e entrando in contatto anche con altri topi e poi con la popolazione, eccetera. La malattia si manifestava con buboni, quindi escrescenze sotto le ascelle, all'inguine, sul collo. Il malato veniva colpito da febbre altissime e difficoltà respiratorie. Dato che le conoscenze scientifiche non erano adeguate, non erano quelle che abbiamo noi oggi, si pensava che questa malattia fosse dovuta all'influenza negativa degli astri oppure ad eventi naturali insoliti che colpivano e infettavano quindi tutta la terra, magari appunto le forze del male. Però pur non conoscendo le cause e non sapendo spiegare la diffusione della malattia, le autorità civili tentarono di bloccare il contagio imponendo quarantene e quindi isolamento di persone, animali e cose che erano entrate in contatto con il morbo e pretendendo certificati sanitari per le merci. Cercarono anche di migliorare, per quanto poterono, le condizioni igieniche nelle città, pulendo le aree pubbliche, pulendo le strade, disinfettando le case dei malati, controllando con maggior cura le sepulture dei morti. Questo fu sicuramente positivo perché era il modo per impedire la diffusione della malattia. Molta gente però, spaventata, scappò nelle campagne. Altri invece si rigettarono nel fervore religioso nella magia. Cosa avveniva? Che molte persone, convinte dell'impossibilità di combattere questa malattia, si affidarono alla protezione divina. In che modo? Attraverso processioni, riti, processioni che si svolgevano lungo le strade. Tutto questo portò però a una diffusione maggiore della malattia. Una delle categorie che contribuì in questo senso furono i flagellanti. I flagellanti si flagellavano appunto, quindi si colpivano, si punivano il loro corpo colpendosi con delle fruste ad esempio e percorrendo la città attraverso processioni piene di persone. E questo portava ovviamente il contatto umano, portava alla diffusione di queste malattie. E poi ci furono quelli che diedero la colpa a certe categorie, ad esempio gli ebrei. Gli ebrei venivano visti come, in quanto avevano rinnegato e accusato Gesù Cristo, come anche i responsabili della diffusione della peste, quindi erano la causa della diffusione della malattia. La crisi del Trecento, abbiamo visto, portò alla morte di milioni di persone e questo fatto portò ovviamente anche a una crisi economica. La crisi economica derivava dalla minor richiesta di beni. La minor richiesta di beni portò quindi a un crollo dei prezzi, perché ci si trovò ad avere più prodotti di quelli che si potevano vendere. E quindi, quando di solito capita questo, i prodotti vengono a costare di meno. E diminuì anche la richiesta non soltanto dei beni alimentari, ma anche dell'artigianato, delle manifatture, diminuirono i commerci e in generale tutte le attività urbane, tutte le attività che si svolgevano in città. E anche molte banche fallirono, perché avendo prestato ingenti capitali ai sovrani, i sovrani non riuscirono a restituire i prestiti, perché non riuscivano a incamerare quante tasse desideravano, e quindi alla fine le banche si trovarono a non riavere indietro i denari che avevano prestato. Questa situazione portò i più poveri ad essere ulteriormente oppressi. Contadini, manovali, lavoratori, chi percepiva un salario, erano quelli più subissati dai problemi economici. Perché le tasse feudali aumentavano, in quanto appunto i feudatari volevano e avevano bisogno di denari per mantenere il loro stile di vita, i re, i sovrani, imposero nuove tasse, i sovrani nazionali imposero nuove tasse, perché volevano creare eserciti per poter estendere i loro domini. E ci fu anche una diminuzione dei salari, cioè degli stipendi, che era l'unico modo che avevano i lavoratori per sopravvivere. Quindi esasperati, sconvolti da questa mancanza, proprio delle condizioni anche di base per la sopravvivenza, scoppiarono violente rivolte. Queste rivolte vennero spesso, anzi sempre, soppresse dagli eserciti dei nuovi stati nazionali, che in questo modo così rafforzarono anche la loro autorità sul territorio. In Francia, nel 1358, ci fu la Jacquerie che devastò i castelli dei grandi proprietari intorno a Parigi. Jacquerie veniva dal termine Jacques Bonhomme, che era il nomignolo, cioè il nome per dire sempliciotto, che veniva usato in Francia. Ci furono rivolte anche nelle Fiandre, a Gande e Bruges, che solo nel 1379 finì con i rivoltosi che si arresero. Nel 1378 ci fu anche la rivolta dei Cionpi a Firenze, e nell'82 un'altra rivolta in Saguinò, Parigi, e ci furono anche rivolte in diverse città inglesi. Fu un'epoca dove appunto i contadini iniziarono a ribellarsi, perché non potevano più sopportare le condizioni allo estremo in cui si trovavano. Quando la crisi finì, sostanzialmente nella prima metà del XV secolo, la ripresa vide un cambio nella società, perché se fino a quel momento, nel 300 c'era comunque un certo livello di parità, teniamolo sempre tra virgolette, però l'idea era che c'erano ovviamente i nobili e le persone molto ricche, ma erano una stretta fascia della società, e il resto della società, contadini, lavoratori, piccoli artigiani, vivevano tutti più o meno nelle stesse condizioni, e tutti in condizioni, prima della crisi del 300, non definiamole buone, ma sufficienti per la sopravvivenza. Dopo però la crisi, ci fu uno spaccamento ulteriore, perché si creò una nuova classe di ricchi, i ricchi sfuggiti appunto alla peste e alla crisi si ritrovarono ancora più ricchi di prima, perché ereditarono i beni e le proprietà delle famiglie, delle loro famiglie decimate dalla peste. Si trovarono a poter acquistare con quei soldi, terre, o con i soldi che avevano ottenuto da parte, le terre che venivano a quel punto svendute, perché chi era sopravvissuto non aveva mezzi per coltivarle, o aveva bisogno di soldi, e nello stesso modo poterono comprare botteghe, manifatture, che non riuscivano a sopravvivere. e sfruttarono anche a proprio vantaggio il bisogno di lavorare dei contadini e dei lavoratori impoveriti dalla crisi. Mi permetto di aggiungere una notazione di collegamento con la situazione attuale, perché la storia ha senso se la collego con il presente, se no è un ricordarsi qualcosa che è lontano da me. Ma la storia non è mai lontana da noi. Stiamo vivendo un periodo che non dico che è come la peste nera, perché non siamo a quei livelli, non siamo a quei numeri, non è quel mondo. Ma ce lo ricorda. Ci troviamo di fronte a una situazione che nei tempi recenti non abbiamo sperimentato. Ci sono state altre malattie, la peste si è riproposta molte volte, lo abbiamo visto, ha continuato a riproporsi ancora fino al 600. All'inizio del secolo scorso, tra 1918 e 1919, ci fu la diffusione della Spagnola, un'influenza che causò anche lì milioni di morti, si calcola circa 50 milioni. Con la malattia di oggi, il Covid-19, il coronavirus, non ci troviamo su quei numeri. Ma il mondo è sempre più interconnesso. se la peste nera ci ha messo quattro anni per diffondersi, dal 1947 al 1951, avete visto come la malattia oggi si è diffusa in pochi mesi. A dicembre i primi casi in Cina e a febbraio ormai era contaminato tutto il mondo. E le misure che stiamo prendendo noi oggi sono, vedete come abbiamo citato prima, ma sostanzialmente è le stesse che sono state prese nei secoli scorsi. Segno di una caratteristica forse che contro i virus, nonostante i secoli, non c'è all'inizio subito una cura nuova. Tutti parliamo del vaccino, il vaccino che speriamo, tutti che arrivi, ma la soluzione purtroppo è sempre quella. La malattia si diffonde, qualsiasi malattia si diffonde con il contatto. E l'unico modo per impedire che una malattia si diffonda è limitare il contatto. E questo è quello che ci dovrebbe insegnare forse la storia, che limitare il contatto in questo momento, ce l'ha detto anche il Presidente del Consiglio più volte, il Presidente della Repubblica più volte, è l'unica soluzione per evitare che questa malattia cambia ancora di più, per quanto non è discutibile l'abbia già fatto tanto, le nostre vite. Quindi volevo appunto dedicare qualche minuto a riflettere su come un evento di 700 anni fa si possa collegare a qualcosa che sta avvenendo oggi, nel 2020.